Andrea Marchetti, quest'oggi è una vittoria importantissima del Cuno nel derby, sempre atteso, sempre sentito contro la Pro Donero, è arrivato un 2-0. Andrea, che gara è stata? Perché questa è stata una vittoria veramente importantissima contro un avversario da sempre ostico. Sì, hai detto bene, le partite contro la Pro sono sempre difficili perché loro sono forti, sono fisicamente, sono anche forti su quel piano lì, sono bravi tecnicamente, sono ben allenati, quindi è sempre difficile. Però penso che abbiamo interpretato la partita nel modo giusto, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto in settimana, quello che il mister ci ha chiesto e secondo me il risultato poi alla fine è stato giusto. Portiamo a casa questi tre punti che sono importanti, anche perché oggi l'Alba penso abbia vinto e quindi continuiamo la nostra corsa e guardiamo domenica prossima. Per te anche il premio di MVP, mi allaccio a questo per dire insomma che siete stati bravi a mantenere veramente al minimo offensivamente la Pro Donero, che è una squadra che davanti fa sempre comunque paura, invece oggi avete rischiato veramente poco, quindi merito a voi della difesa e di tutta la squadra ovviamente. Sì no, MVP a me ma penso che oggi potrà darlo a tantissimi miei compagni, insomma forse a tutti i 11-13 che hanno giocato perché anche chi è entrato ha fatto molto bene e sì noi non abbiamo preso gol ma è importante anche sempre, quello che dico sempre è che è importante sempre fare gol, ok? Perché se no le partite si possono aprire per un episodio e oggi siamo stati bravi anche a raddoppiare e quindi ci mettiamo un po' in protezione di certi risultati, soprattutto con queste squadre qua che possono tirare fuori l'occasione da una palla buttata in area, da un calcio d'angolo, quindi era importante fare anche il secondo gol, siamo riusciti e sono stati tutti bravi.